Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritrovati su The Walking Dead, terzo episodio Long Road Ahead E la lunga strada davanti effettivamente in questo momento ce l'abbiamo Ci ricordiamo però del passato appena successo E quello che è capitato è che Lily ha dato di matto e ha sparato in testa a Carly Per Dio, proprio nel momento in cui c'era qualcosa di dolce tra di noi Oh mio Dio, ora c'è Katia qua che ci sta chiamando quindi Andi, andi, sto arrivando Ehi, c'è bisogno di chiamare un quarto d'ora? Lì, lì, lì Chi è? Cosa fu? Cosa c'è? Oh cazzo Duck sta male? Oh no, è stato morso Perfetto, perfetto, moriremo tutti Perfetto, eh, ale È successo poco fa, sì, avevo intravisto Diventerà uno zombie Eh, non lo sai, non lo sai, certo che lo sai Dì, sì, lei non lo vuole sparare in testa Io lo capisco, però È ovvio che diventerà uno zombie questo poveraccio Lei vuole controllarlo, controllarlo Vedere la ferita, se cambiano le sue condizioni Ma va a cagare Ci faranno ammazzare tutti con questo piano genial mitico Bisognerebbe sparargli in testa con coraggio Anche se è un povero bimbo Eh, almeno ce l'hanno detto, comunque Qualcosa di buono Dobbiamo dirlo a Clementine? Perché ma? Poverina, già ha subito mille traumi Non mi sembra il ca... Parliamo, guardiamo a Lily prima Povera Lily Lily, come ti è saltato in mente? Non so io Clementine Devo dire qualcosa Il tuo amichetto potrebbe o non potrebbe diventare un mostro mangiacarne Potrebbe succedere Lily 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 Ma, ma, bu Non so io Come se vai a fare la spesa Ti passi uno davanti E ti sparano Così Abbiamo detto a Clementine del povero Duck Eh, non è che sei stata ammorsa anche tu, eh Carly, Carly Eh Eh, se n'è andata Ma non tornerà indietro Sì, non ritornerà zombie L'hanno sparata in testa Almeno Eh Eh È triste questo episodio, cazzo È troppo triste Mi avevano avvertito Quando ho detto che l'avrei giocato Però, eh Non so neanche Non posso neanche dire niente di divertente in questo momento Perché mi ha depreso tutta questa situazione Eh Sono contento di avere te al mio fianco Dai, almeno abbiamo questa figlia Che non è nostra figlia, però Dai, basta Oh, ha detto che voleva Quando ci ha visto sotto la sua casa sull'albero Voleva buttarci Un martello in testa Cattivo È brutta Non è giusto Non si fa Eh, non l'hai fatto Meno male, cazzo Saremmo diventati cerebrolesi pure Oltre che un po' stupidi e assassini C'è un rubinetto che perde Vuoi aggiustarlo? Non mi sembra il caso di aggiustarlo Eh, oh, Ben Non è che devi spararle anche tu Che facciamo un bordello qua Rimaniamo da soli alla fine Rimaniamo da soli con questo qua E sta diventando uno zombie Oh, no Oh, oh, oh Oh, tappa Porca puttana No, no No No, Clementine Ma che ca... No, no, no Era un sogno Vaffanculo Vaffanculo Ma che cazzo di scherzi sono? Gioco Gioco Walking Dead Sono preso paura Allora Vaffanculo Eh Mai me lo sarei aspettato Porca puttana Ho preso paura Avrei smesso di giocare Se la povera Clementine Fosse stata uno zombie, eh Porca puttana La maiala insozzata Lurida Eh, che ca... Poi ditemi Che dico troppe parolari Ma che minchia Ci succede? Ma se sono scherzi da fare Era un sogno Vaffanculo Vai Manderò una lettera ai creatori del gioco Era uno scherzo del cazzo questo C'è un treno Eh, questo è il treno dell'immagine iniziale dell'episodio Quindi dobbiamo prendere questo treno in fin dei conti Come si fa? Oh, tutti Come si... Si sale Cioè, sale è facile, ma... Ehm Ok, quindi cosa state proponendo? Ok, lui propone di vivere sul treno Oh, vuole chiudere la povera Lily qui dentro Ma perché la dobbiamo trattare come una bastarda? Ok, ha ucciso Carly, però Povero Duck Oh Ok Ok Clem starà con Kenny e Kate Non è un ottimo posto Che? Voleva qualcosa da bere, forse Ok, ok Mi sono traumatizzato Ci hanno dato di esplorare la... La locomotiva Insomma, questo treno, dai Porca puttana Vabbè, cosa... Minchia, è pieno di port Ben Ben Mi devi aiutare Ben Sudicio Devi aiutare Cosa c'è? Cosa gli... What was it you? Ah Ehm Chiediamogli se è stato lui a rubare la roba Forza, dillo No No, dice Secondo me è stato Ehm Vabbè, non mi interno Non ti voglio dire niente Muori Merda Sei brutto Sei come la fame E secondo me hai rubato Perché Insomma Adesso qua ci sarà uno zombie che ci salta in faccia Me lo aspetto 3, 2, 1 Oppala Cosa c'è qua Niente Sicuramente Un piffero proprio Scarpe? Ah, ci sono delle scarpe Vabbè, potremmo anche utilizzare Ah, qualcuno ci ha vissuto Mmm Sembra usato di recente Ok, ok Quindi stiamo sull'attenti Non sia mai che ci arrivi qualcuno C'è una mappa Ah, questa potrebbe servire Credo Sembra di essere su dei sì Troviamo anche una bussola magari Eh, vedi E' buono questo Quindi Ha capito che il treno Si dirigeva Nella stessa direzione Ehm, acqua Prendere Sì, povero d'acqua Almeno gli diamo da bere Poveracci Vabbè Ehm, andiamo di qua Va, per ora Ah, si poteva uscire da lì Vabbè, vabbè Vediamo un po' che cosa c'è qua fuori Magari Qua c'è la locomotiva Aspè, vabbè Diamo l'acqua al poveretto Intanto, va Ehm, poi Poi vediamo Dove Cosa Questa è povera Clementine Clementine Kenny cosa Ah, la mappa Gli dobbiamo proponere Vabbè, prima l'acqua A Aldac Tien Perfect Non è proprio perfect Perché Mamma mia Povero Dac Eh Sono discorsi molto tristi Questi Una madre che perderà il suo povero bimbo Perché si trasformerà In un assassino Divoracorpi Mio Dio Abbiamo dato anche la mappa a Kenny Spero che succeda qualcosa di simpatico Tra un po' Perché per questo episodio È veramente stata una catastrofe dopo l'altra Diamine Io non dico È normale che succedano cose brutte Però È È troppo così Cioè Veramente è una cosa dopo l'altra Cazzo Ah Vabbè Cerchiamo di salire qua Come si Cosa Qua c'è la catena Non ci posso passare Posso andare di qua però Quindi Ah ecco Qua c'è la porta Cos'è Questo è il compartimento Del motore Sì potrebbe esserci qualcosa dentro Però Potrebbero anche esserci Degli zombie dentro Ha delle chiavi inglesi Beh Possiamo prenderci un'arma Ehm Prendo questa uncinata Eh eh Questa ne sa eh Ok andiamo Ah Non può Ah non posso entrare Ah va bene Ehm Ok Ehm Ehm Ma Ehm Cioè Se apro questa Che cazzo c'è dentro Ah C'è altra Ah qua c'è il motore Proprio Vero e proprio Preazionarlo Ah è rotto Ah Ah Ehm Ok quindi Niente È rotto È rotto Ah cazzo Vediamo nell'altro sportello Più avanti Quindi questo l'abbia Questo l'abbiamo visto Questo l'abbiamo visto Questo non l'abbiamo visto Ce n'è ancora due Oh che fallo In uno ci saranno zombie Proprio è ovvio Spiacicato nel muro Dietro qua Cos'è qua Ehi Ehm Cosa Niente Eh vabbè Bastava dirlo Non c'era un cazzo Ok Vediamo nell'ultimo Che è Questo E vediamo Qua c'è uno zombie Va proprio ovvio Ah no Ah vabbè Megliosi Non c'è niente Nemmeno qua però Eh vaffancuore Ah va bene Va bene Va bene Allora Ehm A questo punto Ehm Dobbiamo andare Qua Nella cabina Che ci sarà lo zombie Pilota di tre Ehm Eccolo lì Sapevo io È vivo È vi Oh no Ehm Ok Ehm La pistola Oh Oh cazzo Ah ehi Io userei l'aggeggio nuovo Non la pistola Vai Vai Tiratelo sulla testa Tira Sulla testa Prendilo Bam Era già morto Ehm Dobbiamo toccarlo Perché dobbiamo toccarlo Potremmo girarsi È morsicarci Devo premere cuio Secondo me È morto qui Ah Era già stato sparato In testa Ah sì Sì È già stato Stato È già stato Stato Sparato in testa Ok Meglio così Almeno non dobbiamo preoccuparci Di lui Ehm Oh C'è una luce Oh Push it È scemo Bene è scemo Dice di premere pulsanti Oh Ha messo in moto Il treno Così random Ah Kenny è contento Ok Erano i freni Quindi funziona il treno Ehm Però nessuno di noi sa guidare un treno Quindi Ehm Non c'è un manuale su come guidare un treno Tipo Guidare i treni per imbecilli Ehm Ok Kenny ha detto che lui cercherà di capire come si mette in moto questo cazzo di treno In fin dei conti non è difficile Cioè Deve solo andare avanti o fermarsi Ehm Non è che Ehm Cos'è questo? Una mappa? Un'altra mappa? Ah Città di Georgia Ah C'è anche una foto Poverino Della famiglia del capotreno Ehm L è brutto eh L'apocalisse zombie Oh Ci sono le istruzioni? Ma non ci sono più Le hanno rubate Eh Che cazzata Chi è che si mette a scrivere le istruzioni Su come avviare il motore Il treno Dentro il treno Vabbè Qua c'è un pranzo putrefatto Ehm Oh Lo so io come leggere questo Lo so io Perché sono un genio io eh Qua dovete dirmi Dovete riconoscere voi anche La mia Intelligenza Perché ho avuto un'idea genial mitica Vi ricordate che Clementine C'aveva Oddio Faffaculo Ma porca puttana Ehm Ehi Che sei Tu sei uno zombie con la cintura di sicure Giustamente Giustamente Ti sparo però No perché è too loud Bisogna sparare Bisogna uccidere Bisogna uccidere Oh voglio voglio quelli Voglio i cracker Però c'è questo qua Come si fa adesso Oh cacchio Ehm Ehm Che ho capito come si risolve L'enigma Della Delle Delle istruzioni E ricordate che Clementine Aveva i gessetti Del cazzo E ci diceva che si potevano Vedere le cose scritte In precedenza No con la storia Delle foglie Noi lo facciamo Con la roba scritta Ci ha chiesto Cosa facciamo di Lily Ehm Non lo so Non lo so Ma non voglio punirla A meno che non si tratti Di sculaccioni erotici E non ditemi Che sono pervertito Perché lo sono Molto E già Lo so già Ehm Ok dai dai Sbrighiamoci però Non voglio punirla Comunque Ehm Devi darmi il gesso Dammi il gesso Il gesso Il gesso Ecco Dov'è venire i pensi Il gesso Ho un pastel Ok Sì c'era qualcosa Scritto sul notepad E noi dobbiamo vedere Sì infatti Ma vedi Ha detto anche lei L'indizio Ha dato l'idea Di mettere la foglia E colorare Noi non ce l'abbiamo La foglia Però ci abbiamo La roba scritta Sulla pagina precedente Capito Quindi Ehm E' utile Fare questa storia La come lei diceva Quindi Saliamo qua sopra Credo Da dove cazzo si sta Da qua Apriamo Ehm Dobbiamo prendere Il gesso di Clementine Che dove cazzo sarà Oh c'è Lily Andiamo a parlare con Lily Va già che ci siamo Noi non ce l'abbiamo Noi non ce l'abbiamo Noi non ce l'abbiamo